Riprendiamo la linea dal Figoi, quasi finito il terzo tempo, purtroppo 4 a 2 per il Lerici, ma sentiamo il nostro opinionista Gibu. Sto pensando una cosa, se un altro anno continuiamo a giocare nei Master a Prato, siccome usciamo tutte le sere che abbiamo la roba bagnata, già prendiamo una cabina. Bella idea, se ne parla, se ne può parlare.